L'Alpinista, opera di Diego Imperatore del 2022. Il murale è stato realizzato per celebrare i 20 anni di attività del Museo nelle Nuvole, situato sulla sommità del Monte Ritte, spettacolare terrazza naturale da cui si gode la vista a 360 gradi delle più belle cime delle Alpi Dolomitiche. Per realizzare l'opera è stato incaricato un artista locale, Diego Imperatore, artigiano eclettico e artista visionario, che ha saputo reinterpretare con maestrie alla tradizione cadorina della lavorazione del ferro per dar vita a sculture dove la solidità della materia si trasforma in leggerezza ed eleganza. La perfetta padronanza della tecnica artigianale è stata il punto di partenza dell'attività artistica di Diego. Le sue realizzazioni sono ispirate alla vita in montagna, al profilo dei monti e dalle sue genti, alla celebrazione di gesta sportive, al ricordo di eventi raccontati con tratti rapidi e decisi, essenziali, capaci di coinvolgere ed emozionare. Il Museo nelle Nuvole ha dato il via alla collaborazione tra Cibiana di Cadore e l'alpinista Reinhold Messner, convinto a sostenitore della cultura della montagna e promotore di iniziative che consentano la sopravvivenza delle comunità montane, nel rispetto delle tradizioni e dell'ambiente, ma guardando al futuro, coniugando i principi di salvaguardia dei territori con la sostenibilità economica e il progresso. Lo stesso museo è stato realizzato recuperando il forte che l'esercito italiano aveva costruito tra il 1911 e il 1914. Dopo gli avvenimenti di Caporetto, il forte fu distrutto e rimase abbandonato per decenni. Il suo restauro è avvenuto utilizzando il materiale già presente nella vecchia struttura. Niente nuovo cremento amato, niente nuovo acciaio. È stata usata la vecchia struttura. Questi cristalli di vetro sono stati costruiti sulla base della cristallizzazione della Dolomia. Qui siamo veramente nel centro perché tutte le montagne famose si vedono da qui. Cevetta, Mamulada, il Pelmo, il Santellao, il Sorapis, il Bosco Nero e tutto quello, dove io da giovane avevo fatto centinaia di salite. È importante che noi in una struttura di guerra abbiamo fatto una struttura di pace. La collaborazione tra Cibiana Di Cadore e Rainol Messner non si limita alle solo attività avviate nel territorio. Il Museo nelle nuvole sul Monte Ritte e il campo base a Taula dei Bos, inaugurato nel 2019. Ma la visione imprenditoriale del noto alpinista è di stimolo alle amministrazioni locali per avviare iniziative che portino lavoro e benessere agli abitanti. È il caso di citare il progetto dell'ospitalità diffusa, mirato a sostenere lo sviluppo turistico del Cadore in assoluto rispetto dell'ambiente, con investimento di capitali contenuto e con distribuzione dei benefici tra tutti i partecipanti al progetto. Il murale dell'alpinista viene presentato in un edificio finemente ristrutturato che partecipa al progetto dell'ospitalità diffusa di Cibiana. Il proprietario dell'edificio ha voluto che il murale fosse accompagnato da una dedica a Rainol Messner e a tutti quelli che inseguono i loro sogni. Un segno di gratitudine per una persona a cui ispirarsi per affrontare con coraggio, costanza e determinazione le difficoltà che si frappongono tra noi e le nostre aspirazioni.